Nuova puntata di A2x2 con noi Andrea Pegurri. Ciao Andrea e grazie per essere qui con noi. Allora Andrea la tua storia è una storia molto particolare ma io vorrei introdurla un po' così diciamo di soppiatto. Nove anni fa ti è successo una cosa che ti ha sconvolto la vita che inizialmente ti ha buttato diciamo in una tragedia grandissima ma che poi ti ha dato la forza di reagire, una forza che neanche tu sapevi di avere e ti ha fatto addirittura trovare l'amore. Questa secondo me è la cosa più bella. Che cosa ti è successo? Ti senti di raccontarcelo? Sì guarda ti faccio un piccolo riassunto. Niente io il 15 marzo 2002 ho avuto un gravissimo incidente sul Dovenca a Gandino ho avuto un colpo di sonno e nell'addormentarmi insomma sono andato contro il muro, ho buttato giù un piccolo muretto di cemento armato, la macchina si è incendiata e stavo morendo diciamo. Mi hanno salvato per miracolo e purtroppo sono rimasto sulla sedia a rotelle. È stata un'esperienza davvero molto forte. All'inizio ti dirò il primo anno è stata davvero tragica perché diciamo il primo anno non proprio tragica è stato, cioè se vogliamo raccontarla un po' bene. Anche perché era la novità, era un po' il cambiamento, non me l'ho reso ancora ben conto di quello che realmente mi fosse successo. E invece dopo il secondo anno ho iniziato a realizzare effettivamente che la sedia a rotelle purtroppo avrebbe fatto parte sempre della mia vita. Sono caduto un po' in depressione per un periodo insomma, volevo anche farla finita, mi sono sentito davvero male insomma. Lascio immaginare a voi cosa voglia dire che in cinque minuti ti si cambia la vita da un ragazzo che cammina, ora sei sulla sedia a rotelle. E niente, lì in periodo di depressione mi viene da dire quasi casualmente, non so dove ho trovato la forza, ho iniziato a pregare diciamo. Mi ci hanno detto la sera prima di andare letto perché? Non provare a dire un padre nostro ogni tanto, no? L'ho provato così pian pianino un po' a pregare e casualmente è arrivato un mio caro amico che conoscevano i miei genitori, no? E questa persona era una persona molto credente diciamo, no? E mi ha detto guarda che puoi fare ancora qualcosa, ascolta quello che ti dice Dio. E mi sono detto vabbè proviamo, nel senso proviamo a ascoltare cosa mi dice Dio. Prova a venire con me in un pellegrinaggio a Medjugorje di qua, di là, di su, di giù. Che mi giugorje è un bellissimo santuario in Bosnia e Herzegovina e lì diciamo quando sono andato mi è cambiata la vita perché ho sentito una pace interiore e da quell'esperienza ho capito che qualcosa poteva migliorare se solo lo volevo. Infatti ho iniziato a pregare, a farmi forza, ho fatto la patente europea di computer, ho iniziato a studiare ancora un po' che non sono mai stato un grande studiatore diciamo, ho fatto solo la terza media. Comunque niente ho fatto la patente europea di computer e ho cercato lavoro grazie anche a amici che mi hanno aiutato una cifra, quelli veri perché quegli altri poi sai com'è, si sciolgono un po', ho trovato un po' la novità, le cose, poi ti rendi conto di quali sono veri e quali no. E niente da lì c'è stata diciamo la mia rinascita, ho iniziato a lavorare, sono andato a fare ancora un po' di riabilitazioni in una struttura giù a mozzo, ho imparato a tirar dentro e fuori la carrozzina autonomamente anche per spostarmi, ho rifatto la patente dalla macchina, ho fatto tante cose diciamo, proprio perché avevo grinta in questi periodi. E lì ho conosciuto il mio caro amore, lì a mozzo che si chiama Valentina ed è una ragazza sensibilissima che amo tantissimo. Abbiamo iniziato un po' a frequentarci, lei era lì e faceva la fisioterapista, in quel momento lì faceva il tirocinio, in quei periodi lì. Abbiamo iniziato un po' così a frequentarci, no? Quasi anche per scherzo ha detto ci provo, non so come va, ma io ci provo, vediamo un po'. E così invece ho visto che aveva anche lei dell'interesse nei miei confronti, ho detto, allora Dio esisti veramente, mi ha dato ancora conferma della tua bontà. E niente, abbiamo iniziato a frequentarci, a uscire, e niente, il 23 maggio 2009 mi ha attaccato uno striscione proprio dove ho fatto l'incidente. Andrea ti amo, voglio che tu sia mio marito. E come fai a dirlo? Cioè, ci ho sposato e sono la persona più felice del mondo, nonostante la mia situazione, ti dirò, guarda. Perché ho scoperto la vera gioia della vita. Una serenità che si vede, noi siamo molto contenti di condividerla con te, che sicuramente è arrivata a fatica. Tu hai detto bene, gli amici mi sono stati vicini, chi più, chi meno, chi se n'è andato. Qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto reimparare a fare quando ti sei trovato sulla sedia a rotelle? Ma guarda, non è che ci sia una cosa più difficile o no, perché ti cambia tutto, dai rapporti nella vita sociale con le persone, al muoversi, al vestirsi, alle barriere architettoniche che le vedi ovunque. Cioè, voi normodotati, grazie a te, vedete il marciapiede, non ci fate caso, lo scavalcate, io arrivo, cavoli, qua non c'è la pedana, qua come faccio? Una situazione molto difficile, anche dal punto di vista fisico, come ti dicevo, nel vestirmi, non è che ti alzi in piedi, ti tiri sui pantaloni, ti metti la maglia, devi stare sdraiato con certe manovre, a vestirti nel lavarsi, nel fare i bisogni anche fisici, pipì, caca, insomma, cambia proprio effettivamente tutto. Quindi è un po' quasi come tornare bambini e dover riscoprire il proprio corpo, il proprio rapporto con gli altri, con la natura, con l'ambiente circostante? Bravissima, con qualunque cosa, perché nessuna cosa è più come era prima, ma anche le persone che prima ti trattavano in un certo modo, dal punto di vista sociale, ti trattano come una nullità, mi viene da dire, non moltissime persone. Quindi siamo nel 2011, ma la società è ancora molto indietro nei confronti dei disabili? Assolutamente sì, guarda, poi ci sono le persone valide che capiscono che comunque sei una persona, nonostante la tua menomazione che hai, che non puoi fare ancora tutto, però comunque sei una persona, una persona come le altre, voglio dire. Questo l'ha capito mia moglie e la ringrazio tantissimo che mi ha sposato. Anche perché tu lo stai dimostrando, lavori, hai una vita molto più attiva delle persone che riescono a stare sulle loro gambe, quindi complimenti. Diciamo di sì, dai, volevo raccontarti anche della mia avventura sul curo da poco, che mi sono comprato una motorotta, a parte la patente per la macchina che guido, lavoro, ogni tanto andiamo insieme con la moglie perché lavoriamo insieme con una macchina singola, ogni tanto quando lei magari fa un orario diverso, vado con la mia macchina, tolgo la carrozzina, vado, faccio sbrigo, torno a casa, ogni tanto gli preparo la cenetta perché, eh sì, dai, ogni tanto, perché è cosa da donna, comunque sì. Mi son detto, cacchio, voglio fare un gradino superiore, perché non prendermi il quad? Io ero amante della montagna prima, capisci, l'ho sempre adorata, e volevo fare un gradino superiore, e mi ho detto, cavolo, guido, ho una buona autonomia, perché non poter tornare in montagna, porco cane? E da qui la scelta di comprare il quad, bravissima, ovviamente non è una cosa semplice neanche andare col quad, e tu hai sfidato di nuovo i tuoi limiti, diciamo, riuscendo a raggiungere un obiettivo molto importante, andare su una montagna, a Rifugio Curò, con tua moglie, e com'è stato, quale emozione hai provato? C'è stata un po' di paura, se devo essere sincero, eh? Ma niente, sono andati su, abbiamo caricato il quad con altri due amici, che ringrazio tantissimo, perché sono due persone meravigliose che mi sono state vicine tantissimo, e niente, abbiamo caricato il quad, abbiamo caricato, allora, carrozzina dietro, borsa a frigo, zaino, e davanti la tannica di benzino, nel caso che restiamo a piedi, due sacchi a pelo, la moglie e la tenda, e io, insomma, che non sono una figura magrolina, diciamo, eh? E niente, siamo saliti sul Curò, io sinceramente ero andato su 12 anni fa, su questo rifugio, ti parlo ancora prima di farmi male, quindi lascio pensare a te, i ricordi che ho, chi si ricorda la strada, io avevo in mente quel paradiso lì, perché è un bellissimo posto, le montagne, l'acqua, si respira aria pulita, diciamo. E soprattutto l'avevi vissuta in modo, diciamo, normale, tra virgolette, con le tue gambe, quindi hai incontrato degli ostacoli che però sei riuscito a affrontare, sei arrivato in cima. Sono arrivato in cima, ma se potevo tornare indietro in tanti momenti, guarda, ti dico, quasi quasi faccio retro, è che non potevi, devi solo che andare avanti. Sono arrivato in cima e c'è stata una grandissima soddisfazione, perché ho fatto vedere a mia moglie quei posti, di cui ero innamorato, di cui sono sempre stato innamorato, e mi è stato detto anche che sono il primo ragazzo disabile sulla sedia a rotelle, che è riuscito a raggiungere questo rifugio, insomma, con questa moto, col quad, e il secondo, solo un altro normo dotato, un rifugista, ci arriva con questa moto e questa cosa mi dà tanta soddisfazione. E ci credo. Anche come esempio verso le altre persone, verso gli altri disabili, di non arrendersi, che la vita ha tantissime cose da offrire se solo lo si vuole, si prendono le strade giuste, tutto qui, insomma. Io, Andrea, ti voglio chiedere una cosa in più. Dimmi. Stai incoraggiando quelli che come te hanno purtroppo dei limiti, ma io ti chiederei di incoraggiare anche quelli che non hanno limiti e che invece vedono tutto nero, che insomma si lasciano andare, ha gli accessi a questi ragazzi. Tu comunque sei giovane, quando ti è successo l'incidente eri giovanissimo, avevi 22 anni, 20 anni, se non sbaglio. Che cosa vuoi dire a queste persone che magari non trovano lavoro, si lasciano andare, non godono appunto di quello che hanno attorno? Che cosa ti senti di dire tu che hai un limite, che comunque hai una vita bellissima? Guarda, io mi rendo conto che tante persone, soprattutto i giovani d'oggi, tendono davvero a cercare il divertimento in cose davvero idiote. La prima difficoltà che trovano, ho forato la macchina, mi sono rotto un dito, ai ai ai, a casa due settimane dal lavoro, cioè sono molto, non so cosa dire, non mi vengono le parole, cioè vorrei solo dirgli ragazzi, guardate avanti, cioè ci sono cose molto molto peggiori, vivete la vita per quella che è, andate in montagna, guardate un bel panorama, un bel paio di fiori, le rose, non so, non vogliate cercare l'eccesso in discoteca, bere, fumare spinelli, droga, perché non è quella la felicità, non è quello che vi aiuta e non è quello che vi rende realmente felici. Vi do una felicità momentanea, artificiale, non è quella la felicità ragazzi, credetemi, credetemi, non è quella. E questo insegnamento sicuramente è molto importante, visto appunto le storie che si sentono nella cronaca di questi giovani che si lasciano andare, che non hanno degli obiettivi. Tu Andrea invece degli obiettivi ce li hai, ben precisi, alcuni li hai già raggiunti, appunto un lavoro, una moglie, i prossimi obiettivi, so che delle imprese strane in previsione ne hai ancora. Beh, allora, prima di dirti delle imprese strane, avrei altri obiettivi, magari diventare papà, sarebbe una cosa che mi piacerebbe, però con i giusti modi, perché insomma non è, non è un figlio al giorno d'oggi, insomma comporta molte responsabilità anche nel crescerlo, soprattutto in una condizione fisica come la mia, perché me ne rendo conto, non è così immediato poter stare dietro a un bambino, diciamo, gestirlo, ti scappa via, non riesci bene a camminare e a prenderlo non è subito fatta. E questo sarebbe un mio grandissimo obiettivo, prendere casa se ci sarà la possibilità in futuro, perché adesso siamo in casa in affitto, e altri obiettivi sì, guarda, mi piacerebbe, però questo diciamo è solo un sogno, arrivare magari un indomani, chi lo sa, al lago naturale, dopo il curò, che però sto sentendo voci che mi hanno detto che è un po' stretta, non ci arrivo, quindi magari faccio monitorizzare qualcuno a piedi prima, per sicurezza, e poi sì, mi piacerebbe anche, chi lo sa, tuffarmi col paracaduto, col parapendio, che già gli anni scorsi ci stavo pensando, un po' non avevo il coraggio, la vedevo un po' come infattibile, invece documentandomi un po', visto che alcune persone disabili l'hanno fatto, anche in alcune trasmissioni di Italia 1, così, non so se posso fare il nome, c'è la privacy, tipo invincibili, no, non lo so, tipo quella ragazza che si è tuffata col paracadute, e mi piacerebbe a me provare anche queste emozioni, ma non per dimostrare che un disabile possa fare di più di un normodotato, cioè solo per una cosa mia personale, che se certe cose non se le si fa adesso, probabilmente non le facciamo più. Parlare con te mette tanta serenità, davvero è un piacere, ma non c'è proprio niente che ti manca? Guarda, le cose che mancano a me, come mancano anche a te, come mancano anche al camera, come mancano a chiunque, sì, le cose che mancano sono tante, però ho trovato la vera felicità sposandomi, sto bene così, poi certo, se signore in cui credo, volesse fare un miracolo, dovessi tornare in piedi, ben venga, tutto quello che è il meglio, anche per la mia situazione fisica, bene, ma nel caso non dovesse essere così, perché devo lasciarmi andare, perché non posso vivere al meglio la mia vita, come sto facendo, con le gioie che mi può dare la mia vita, avere dei buoni amici, avere una buona autonomia, una moglie che mi ama, ma mi ama con la maiuscola, cosa posso chiedere di più? E questa sicuramente è una delle fortune più grandi. Questa esperienza della fede è arrivata dopo, tanto dopo l'incidente, in che cosa ti ha aiutato di più? Beh, mi ha aiutato in tutto, diciamo, mi viene da dire. Io prima, te l'ho detto, ero ateo, non credevo assolutamente a niente. Cioè, mi dicevi, Dio, 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 cosa? Una cosa da mangiare, Dio? Cioè, tanto per dirti, tanto per farti capire la mia, la fede che avevo. E invece, come ti dicevo, questo amico qua mi ha detto, ma prova, io sono andato giù, questo qua è una bravissima persona, non so se posso fare il nome o... Sì, sì. Ecco, si chiama Abramo, è un catechista di Gandino, e mi ha aiutato tanto. Mi ha detto, prova vieni giù con me a Međugori, che vedrai che lì se preghi, senti che c'è qualcosa, perché c'è davvero di qua di lato, e proviamo. Infatti sono andato giù, e sì, ho capito che effettivamente qualcosa c'è, e da lì mi si è stravolto tutto. Cioè, ma veramente, io da quando sono tornato da quell'esperienza, ho sentito che ero cambiato, non ero più io. Mi sentivo più forte, più sicuro nelle mie azioni. Tante cose che reputavo sbagliate, le ho rivalutate giuste, e il contrario. E questa cosa mi ha dato la forza di andare avanti. Ho pregato tanto, tanto, per poter trovare una moglie, una persona che mi volesse bene. E cacchio, l'ho trovata. Guarda che non è così semplice in carrozzina trovare una persona che ti dice lei di sposarlo, capisci? Poi ovvio, anche io magari mi meriti. Assolutamente. Però voglio dire, insomma. Ma tu, se torniamo un attimo a quel giorno dell'incidente, ai giorni dopo, insomma, quando ti sei risvegliato, avresti mai pensato, a distanza di anni, di vederti così felice? Assolutamente, no? Ma non pensavo più nulla. Cioè, a distanza di anni, cosa intendi tu? Cioè, appena dopo l'incidente... Come vedevi il tuo futuro, insomma? Ah, non lo vedevo proprio. No, ma te l'ho detto, il primo anno era anche quasi piacevole, mi viene da dire, no? Perché avevo sempre la speranza che sarei tornato a camminare e ricoccolato da tutti, gente che non ti conosce. Ciao Andrea, come stai? Come non stai? Ti sentivi molto al centro dell'attenzione. Il futuro non lo vedevi, no? Perché diceva, beh, è così, poi torno in piedi, torno a lavorare, mi ricreo la mia vita, vado avanti, dovrò fare magari un po' di riabilitazione motoria per poter camminare bene, come prima, perché ovviamente nei medici, nelle persone che ti stavano vicino, non te lo dicevano, cioè non me l'avevano detto subito, capisci? Sempre cercato di tergiversare un po', speriamo che capisca, speriamo che capisca, io l'ho capito dopo due anni, te l'ho detto che effettivamente dovrò restare in carrozzina e da quando l'ho capita, la mia vita non l'ho più vista, te l'ho detto, sono stato a casa sei, sette mesi senza uscire di casa, prendevo la bottiglia di vino, ogni tanto me la vedevo dalla tristezza, dalle cose, mi sentivo giù, ho anche pensato di farla finita, fin quando poi, come ti dicevo, che ho provato guardando anche ogni tanto così la televisione, così a caso, Padre nostro, Signore, sentire un po' queste parole religiose, ho preso questo cammino e grazie a questo amico ho trovato che la mia vita è cambiata e sono soddisfatto comunque della mia vita. Una vera e propria rinascita potremmo dire, dalla tragedia a una vita, diciamo, bellissima, serena, sempre in compagnia di amici, di persone che ti vogliono bene. Mi manca solo di vincere la Super Enalotto, dai. E quello te l'auguriamo. Speriamo. Andrea quindi è cambiato dopo l'incidente, che cosa resta comunque dell'Andrea che eri prima? Dell'Andrea, forse i sentimenti, perché sono sempre stata una persona che si lega molto alle persone. Infatti mi sono legato tante volte a persone, anche sbagliando, perché se ti apri troppo con tante persone, a volte dovresti stare un po' più sulle tue, diciamo. E poi un Andrea, un Andrea più coraggioso, un Andrea più sicuro, un Andrea che se prima mi tiravo indietro dieci volte, adesso mi tiro indietro tre volte, solo le volte che devo tirarmi indietro. un Andrea più grintoso, diciamo, che vuole realizzarsi. Perché anche prima dell'incidente eri in giro un po' così, no, figurati vent'anni. Cioè, va bene, non è che ero in giro a fare il mattissimo, però sai, ti piaceva andare a divertirti, ballare, una vita sociale normale. Non pensavi niente. Invece adesso voglio avere figli, voglio andare avanti. E mi piacerebbe anche spiegare alle altre persone il cambiamento che c'è stato in me, come sto facendo adesso, e se è possibile dare un buon esempio alle persone, insomma. Quindi questa esperienza ti ha fatto anche maturare tantissimo, perché sembra di parlare, insomma, con una persona... E tu quanti anni hai adesso? C'erano 30 anch'io. E no, beh, però, insomma, ci sono delle persone che a 30 anni sono in giro ancora, come descrivevi tu. Anche a 40, dai, tante. Quindi un'esperienza che sicuramente ti ha fatto diventare l'Andrea che sei adesso e che non cambieresti. No, no, non cambierei con niente, guarda. Ti ho detto tutto quello che dovesse venire in più dal punto di vista miracoli, cose di qua e di là, ma se no, no, non cambierei niente di quello che ho, insomma, degli amici, della moglie, del lavoro, che ho un lavoro splendido, lavoro a Nembro part-time come impiegato. Anche lì ci sono delle persone meravigliose. E no, non cambierei nulla. La tua parte vincere al super è una lotto, quello già. La tua giornata tipo com'è? Allora, la mia giornata tipo mi alzo generalmente alle 6 e mezza di mattina, faccio la doccia, perché mi piace rinfrescarmi la mattina, che sono bello attivo. Poi mi vesto, facciamo colazione veloce, cerco di stare indietro perché mi piace mangiare, non so se si vede. Vabbè, comunque, c'è una passione anche quella. Poi partiamo io e mia moglie, preparo, insomma, le mie cose per far pipì, le mie cose per i miei bisogni fisici. Entriamo in macchina, faccio il passaggio in macchina, mia moglie piega la carrozzina, la mette nel baule della sua macchina, generalmente andiamo giù con la sua. Poi arriviamo a Nembro, mi lascia giù me, ta-ta, che esco, faccio il mio lavoretto computer, bellissimo, aggiorno dei database di pronto intervento, poi faccio spuntino a metà mattina. Quello ci sta dentro bene, due pacchettini di crackers ci stanno dentro bene. Poi niente, esco, le dodici e mezzo arrivo a prendermi mia moglie, ci arrivo a casa, prepariamo insieme da mangiare, che è una cosa bellissima, preparare da mangiare con tua moglie. Poi il pomeriggio lei torna a lavorare, io sto qua, navigo un po' in internet, o chiamo magari mia mamma, vado a fare qualche giretto con la moto, o qualche amico che magari non lavora così, andiamo a fare qualche giretto con il quoda, adesso prima in macchina. Quindi insomma una vita pienissima. Sì, sì. Non c'è mai tempo di rilassarsi neanche. No, 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 non mi lamento, diciamo, sì, sì, è abbastanza intensa. E sono soddisfatto, diciamo, dai. E questa direi che è la frase più bella, vederti così solare, così circondato dall'affetto di tutte le persone che ti sono vicine, appunto. Io, Andrea, ti ringrazio. Grazie a voi. Sicuramente questo colloquio servirà alle persone che ascolteranno le tue parole, perché è un esempio non costruito, si vede la tua spontaneità, si vede la tua serenità. Ti ringrazio per essere stato con noi, ti faccio in bocca al lupo, sia per il superenalotto, ma soprattutto per le altre cose, diciamo, per i figli e le altre esperienze che farai. Grazie. Va bene, gentilissimi, grazie. 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 Grazie a tutti.